buongiorno ditemi se vi pare normale ditemelo fai il controllore del cantiere sempre insomma aspettate che dopo dite che vi gira la testa aspettate eccolo cos'è addirittura sul pezzettino di ghiaino con la terra perché mosè perché amore vieni sì salutaci stai qui amore dimmi passato sotto dimmi amore mio dimmi amore mio ho comprato una pappetta la mamma è andata a comprarsi lo shampoo e da tigota che non è proprio un posto così insomma indicato però vendevano almo nature urinary with salmon ti interessa ti potrebbe interessare mamma non sa più dove appoggiare le cose sul tavolo mamma devi mettere a posto lo so lo so lo so non so che devo mettere a posto ma quando è un caldo così non mi va ok proviamo cosa sto inquadrando proviamo questo ma ti strofini ovunque tu cambiamo tazzina via questa via non posso farvi vedere lo schifo che c'è ma faccio aspettate prendo una ciotolina pulita presa una ciotolina pulita poi mettiamo qua questa aspetta cosa si vede si vede qualcosa ecco è abbastanza brodosa però ci sono dei bocconcini che i bocconcini tu non li sai mangiare tu adesso lecchi il brodino e poi i bocconcini rimangono lì dopo ti aiuto io con la forchetta le schiaccio tutti adesso lui lecchi il brodino il concetto di prendere un bocconcino con i denti masticarlo non è contemplato nel suo dna vero mosini seddividi aspetta aspetta